li provo a fare la pasta fresca in casa perché intanto hanno scritto che dovevo usare la farina di semola di semola ok alcuni hanno detto che devo usare un po di semola un po di farina 00 oggi rifacciamo oggi vi faccio vedere come fare la lasagna come faccio la pasta della lasagna con questa Phillips ok ok today I said I want to try to make the lasagna pasta with this machine ok let's go ok userò 350 grammi di farina di semola 200 grammi di farina 00 andiamo a mettere ok prepariamo un uovo e l'acqua due uovi e un po di acqua poco ok andiamo ok accendiamo la macchina cominciamo ok aggiungiamo piano lentamente uovo con l'acqua mettiamo un po di farina sulla teglia guardate la lasagna e poi si apre vedete che è aperto è abbastanza sottile anche adesso vi faccio vedere come ritagliare ok guardate la lasagna ok ok il tari e poi l'apre subito vedete è abbastanza sottile ok guardate bello è sottilissima sottile guardate come è in pasta e poi qua stampa la lasagna ok ecco qua la lasagna ok stampate così abbastanza sottile ok this is the lasagna la lasagna ok guardate ciao